Lecco resta la provincia più metalmeccanica d'Italia. Nonostante l'impatto del coronavirus e della crisi, la nostra provincia si conferma la realtà economica nella quale le industrie contano di più. Allo scorso 30 giugno, secondo i dati della Camera di Commercio di Lecco e Como, le imprese attive nel Lecchese in questo comparto erano 2.169, vale a dire il 9,5% del totale. Un dato che svetta in tutto il paese, queste aziende danno lavoro a 30.206 persone, il 28,6% del totale dei lavoratori lecchesi. L'impatto della crisi si è comunque fatto sentire, dal 2016 a oggi hanno chiuso 163 attività in questo comparto, con una flessione del 7%. Anche il coronavirus ha avuto però i suoi effetti negativi, 7 sono state le aziende che hanno chiuso nel primo semestre 2020. Il dato positivo è che da 2016 gli addetti del settore sono aumentati di oltre 2.000 unità, segno della capacità di adattarsi e di reinventarsi delle aziende. Una crescita che non si è fermata nemmeno in questi mesi difficili, considerando che il numero dei lavoratori impiegati nel metalmeccanico è cresciuto fra dicembre e giugno di 100 unità. Un dato in contro tendenza anche alla flessione della produzione industriale, che per lo stesso periodo segna una battuta d'arresto del 9,6%. Il metalmeccanico inoltre pesa per il 72% sul totale delle esportazioni di merci della nostra provincia. Farla da padrone i macchinari da evidenziare la crescita del settore legato ai mezzi di trasporto, che rispetto al primo semestre 2019 registra un aumento del 30%. A soffrire di più durante questi sei mesi di lockdown sono state le imprese artigiane del comparto, che negli anni precedenti avevano però ottenuto sempre buoni risultati. Dunque sono i piccoli a pagare di più gli effetti del blocco delle attività imposto dal coronavirus.